BAM TROPPO VOLU C'ho fatto? Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo Falla sulla intro Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo Ciao ragazzi qua da Gamebrof Oggi siamo su un altro episodio di Minecraftita Barra spacchettata Cercheremo di andare a cercare il portale dell'Andy Perché oggi siamo nello speciale 100 iscritti Noi vi ringraziamo per questo traguardo E quindi oggi andremo a trovare il portale Speriamo di rimanere felici di questo episodio Simone non era molto convinto Io mi sono lanciato Questi rumori osceni che sentite alle nostre spalle Sono qualcuno Abitanti Sono questi ragazzi i villageri dello scorso episodio Per far riprodurre villageri non è facile come un maiano Un altro maiale Dai la carota, dai la carota E si riproducono Non è così Bisogna dargli da mangiare Loro si scambiano il cibo E poi decidono di accoppiarsi Oh ti do sul ponte Che ho due cuori e mezzo Grazie Che mi dai da mangiare Il che non sono abitato a gioco col Mac Ma sono riuscito a fare questa cosa Bene E che cosa dobbiamo fare Spegniamo la luce Spegniamo la luce Spegniamo la luce Ecco qua Andremo ad aprirla Energia 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 Dai Dai Wishka Non si vede bene zi Ah uè lord buono Atteggia No come ha la macchina Reverse E la prossima è la tua eh Atteggia finita Oh scambio multiplo Non esce nulla La prossima è la mia Ragazzi Ma non esce nulla Zio Pronti Slupo Vabbè 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 Ci siamo Pronti Via È andato dietro È andato dietro È andato dietro Che fail Io pensavo aver capito che andasse Presa Allora andiamo dai C Allora ogni volta che tiriamo la lende Che c'è Lenderai Noi Io non ho la parca Vai vedi con me Ogni volta che tiriamo la lende Non è che subito tiriamo La tiriamo un'altra Facciamo un pochino e poi Dopo non so quanti blocchi Una centinaia di blocchi Ritiriamo l'altra Vai Fai l'altra Un'altra ancora Aspetta in pianura Sei in foresta No 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 Qua ce la perdiamo Allora facciamo una cosa Oakwood No Roof the forest No Facciamo un secondo Un pillar tattico Eh zio Io non ho niente Ecco qua Cammineremo sui detti Io non ho niente Se qualcuno mi ci sta chiamando Magari tipo per dirci Non andate Dai fai sto Non c'ho il pillar Ti difendo da questo Morti Dietro Morto Sì ma questa zona è qua Vai ritira Creeper Che Oddio Attenzio Fortuna che c'ho un occhio Perchè il contro di Creeper è ottimo Te ti ho dito Allora tiriamo un'altra Dov'è? Eccolo zio L'abbiamo trovato Sta qui No sta qua Se non è questo forse No zio non è possibile Si è la Dove? Trovata Dove? Qua Vidi che va su Si Jackpot Raga jackpot quando Simone fa queste cose Non vogliono guardare Si 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 Raga A colpo d'occhio A colpo d'occhio A colpo d'occhio Eccosi Sì Sono morto Ok Zio sei qua sotto Sì le fish Un creeper Ho spesso sentito un creeper Trovata Dove sei? Sto lì sotto zio Zio un creeper L'ho visto Aiuto Non fa niente nell'acqua Neanche una Ma Fa il rumore Che rumore Neanche una Neanche una Quanti le mancano? Quanti le mancano? Io qua le ho tre Ma No Si stanno moltiplicando Sì No Zio Io sto per morire No altri Sono morto No Come lo sape Piglia la mia roba No Sì Una spada Si Si è fatta ossidare la mamma di tutto le enderpearl La mia spada non ce l'ha fatta Invece si Ce l'ha lui Ok ragazzi Il video termina qui Abbiamo trovato finalmente la fortezza Noi veramente vi ringraziamo per il raggiungimento dei 100 iscritti Abbiamo preso anche tutto quanto Tutto quanto Questo perché siamo arrivati a 100 iscritti E anche se in queste bustine non è uscito nulla Ce l'abbiamo fatta Quindi iscrivetevi al canale Commentate Lasciate la Ma stai sempre le stesse cose Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.